Salve amici del Centro Medio Italiano, tanto sole e qualche temporale pomeridiano in Italia. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per martedì 17 maggio. Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la penisola e al pomeriggio instabilità in aumento a partire da Alpi ed Appennini dove avremo acquazzoni e temporali sparsi. Pi asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su coste e pianure. In serata e nottata residui e pioggia al nord-est mai in esaurimento e tempo stabile altrove con nubi sparse e schiarite. Temperature minime e massime in lieve calo al nord e senza variazione di rilievo altrove. Per ulteriori dettagli seguite come sempre le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra App Meteo. Un saluto da parte del Centro Medio Italiano. Grazie a tutti.